. Roberta Bonanno, molto amica di Stefano Sala, si è scagliata duramente contro la sua fidanzata Dasha Derevianchina Ecco il motivo.Grande fratello Vip, Stefano Sala.I dubbi su Dasha.Stefano Sala ha iniziato un piccolo flirt con Benedetta Mazza all'interno della casa del grande fratello Vip Questo ha creato in lui, e nel pubblico a casa dubbi e critiche. Nonostante lui avesse parlato più volte della sua fidanzata, e il grande fratello Vip stesso abbia dato l'opportunità alla modella ucraina di poter interagire con lui, Dasha non si è mai voluta esporre . Tuttavia, la ragazza è molto attiva sui social. Stefano in questi giorni è molto preoccupato di non ritrovarla fuori, e di essere single . . Dasha contro il grande fratello Vip.S.E Stefano Sala ha questi pensieri, Dasha sui social continua a non esporsi su Stefano, ma a criticare duramente tutti gli altri, per esempio Benedetta Mazza, la mamma di Stefano, la produzione del reality . Il motivo? Secondo lei è tutto finto, viene fatto tutto per spettacolo, e alcuni si sono intromessi per visibilità . In ogni caso l'attività social di Dasha, sta innescando numerose critiche e una di queste è quella dell'amica di Stefano, Roberta Bonanno . Roberta Bonanno contro Dasha.Roberta Bonanno ha sbottato su Instagram contro la modella con parole molto forti nei suoi confronti . Cara Dasha, sarebbe molto interessante capire chi ha avuto dei vantaggi esclusa che . Guadagnare migliaia di follower, rilasciare interviste sui giornali più venduti, avere il tuo nome scritto a caratteri cubitali in un programma che va in prima serata con milioni di telespettatori non ti è bastato? . E poi ha avuto qualcosa da dire anche sul fatto che Dasha abbia cancellato le foto di Stefano dal suo profilo . Cancellare le sue foto, non sostenere Stefano, mettere lì che ha insulti contro vendetta, ma ti pare un comportamento da sostenere? Credo che tu abbia perso il controllo . . Ma è alla fine del suo attacco che Roberta Bonanno lancia una vera e propria bomba . . Ecco quello che ha scritto due punti, .se vogliamo dirla tutta, quello che ha fatto Benny in confronto a come è nata la tua storia con lui e un comportamento da grande signora . . . Ci sarà la replica di Dasha. . 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